Ah! 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 Sai, per un attimo... Ho pensato che eravamo in pericolo! Oh! Buongiorno, Wilhelmina! C'è... C'è qualcosa? Che vuoi? In effetti, sì! Voi! Tutti e due! Prendeteli, ragazzi, e andiamo! Allora, cosa vuoi fare oggi, Dorothy? Facciamo sempre quello che voglio io! Facciamo quello che volete voi oggi! Totò, il pisolino non è valido! Puoi farlo più tardi! Oh, io lo so! Andiamo a... Aiuto, aiuto! Wilhelmina ha catturato ferri e becchi! Ho visto le cebbia volare via con loro! Oh, no! Non sono un tipo molto avventuroso, quindi schiaccerò un pisolino con Totò! Ok... Ecco! Finito! Un gigante di latta! Come richiesto! Non riesco a capire perché ti serve una cosa del genere, visto che hai già me e Lyman! Perché quel gigante di latta farà qualsiasi cosa! Io gli ordinerò! È un gigante di latta ad attivazione vocale! Ma ci siamo già noi che facciamo tutto quello che ci ordini tu! In tal caso! Statene fuori, ragazzi! Oh! Quando sarò alla guida del gigante avrò il controllo completo! Oh! Sei davvero intelligente, Wilhelmina! Questo enorme gigante di latta che hai fatto costruire darà a chiunque lo controlli un po' di potere! Potere che una volta avevo! Potere che voglio di nuovo! Oh! Oh, no! Ti metto io, Wilhelmina! Ok, gigante di latta! Andiamo via da questo posto! Andiamo via! Aspetta! Non ti abbiamo detto! Come funziona! Quanto sarà mai difficile! Forza! Andiamo, mucca di bulloni! Via! 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 Tranquillo, TikTok! Di sicuro Ferri e Vecchi stanno bene! Anche se... È strano che Wilhelmina li abbia catturati! E aggiungo, è strano, quasi quanto quel grosso buco nel castello di Wilhelmina! Oh! Quelli laggiù non sono Ferri e Vecchi? Ferri! Vecchi! TikTok! Dorothy? Che cosa ci fai tu qui? Che cosa ci fanno Ferri e Vecchi qui? Che cosa ci fa quel buco enorme nel tuo muro? È stato il gigante di latta costruito da noi! Ed è andato da quella parte! Piano! Va piano! Va piano! Va piano! Va piano! Ho detto di andare piano, non di fermarti testa di rappa di latta! Andare piano, non fermarti! Ti serve un po' di addestramento! Presto diventerai cattivo proprio quanto me! Su, coraggio! Andiamo! Andiamo! Fermo! 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 Ok! Allora, piano e con calma! Prova a girarti! Prova a girarti! Oh! Bravo! Stai imparando! E giro! E giro! E giro! E giro! E giro! Ed giro! E giro! E giro! E giro! Eh! Giorno! Insegnare a qualcuno a essere cattiva è davvero molto difficile.